What's body gotta do? Una roba interessante Vuoi dire a questi ragazzi? Bella su gogia Brava Bella su gogia Sicuramente ci banneranno Se vanno a scoprire questa cosa Ma noi lo facciamo per i ragazzi Ragazzi Abbiamo pescato dal sito russo Di OPG Di roba del genere Il video in anteprima ragazzi Qualche sprazzo di gameplay Della sfida Touchdown Di domani alle 22 Sabato alle 22 Vogliamo farglielo vedere a questi ragazzi Senza perdere altro tempo Vamos Ma prima cosa devono fare? Prima? Dai ragazzi mi raccomando Iscrivetevi al canale Brava Mi raccomando Mettete un bel like Se vi piace E attivate sempre la campanella Per essere informati Bravo amore mio Ha detto tutto lei Mi raccomando ragazzi Super like Super iscrizione al canale Questo vogliamo Dedicarvelo a voi Ovviamente ragazzi non abbiamo messo l'audio Perché ho avuto paura Che si sarebbe potuto riconoscere YouTube E ci avrebbero tolto subito il video Quindi io spero che questo piccolo video speciale vi sia piaciuto Vi ringrazio tantissimo per averci seguito E da parte mia Vi mando un bacio grande Un bacio grande Ciao Alla prossima Ciao Ciao Grazie a tutti.